Si tindi lavoratori e sindacati davanti alla Diba Metalli SRL di Giulianova, azienda che si occupa di recupero di materiali ferrosi e recentemente interessata da vicende giudiziarie. L'obiettivo della protesta è quello di scendere i riflettori sulla situazione che i 34 dipendenti stanno vivendo oramai da mesi, dopo la chiusura dello stabilimento avvenuta nel mese di giugno. Dal 25 giugno i lavoratori non possono di fatto svolgere l'attività e non percepire lo stipendio. Un'inchiesta che partì dal Tribunale di Chieti che per i primi tempi, per la prima settimana e per le prime settimane non aveva tra l'altro nessun tipo di risvolto positivo per questi lavoratori. Ebbene che la giustizia chiaramente faccia il proprio corso, tuttavia un'indagine che è rimasta un po' incompiuta rispetto alla tutela occupazionale ma soprattutto reddituale delle 34 famiglie. Per questo insomma noi abbiamo fatto questa conferenza stampa perché è notizia del 24 di agosto del dissequestro dell'azienda. Un dissequestro che finora però continua a non prendere in considerazione la situazione dei lavoratori. Noi il 22 luglio abbiamo scritto al Tribunale di Chieti per sbloccare i conti e far sì che almeno questi lavoratori prendessero lo stipendio di giugno. Attualmente l'azienda e i conti dunque sono dissequestrati. Quello che diciamo noi oggi è, visto e considerato che l'azienda funziona ed è un'azienda florida, i conti ci sono e sono a posto, chiediamo che gli stipendi di luglio e agosto vengano immediatamente sbloccati per dare sostegno alle famiglie che sono assolutamente provate. Noi ci aspettiamo che adesso il commissario che venga, innanzitutto che venga nominato in fretta, e la prima cosa che deve fare è saldare gli stipendi di questi lavoratori. Almeno anticipare la cassa integrazione che abbiamo richiesto perché questi lavoratori, ricordiamo, sono tre mesi che non vedono il becco di un quadrino. Sono riusciti soltanto a ricevere il mese di giugno grazie all'impegno delle parti sociali, cioè noi abbiamo scritto una lettera di sensibilizzazione al giudice di Chieti che ha accolto quella lettera, anche se qualcuno adesso paventa la riapertura della Diba con parcelle ben più alte, ma noi siamo stati i primi a scrivere al giudice per far sbloccare il conto corrente per almeno la mensilità di giugno. Però da allora i lavoratori sono senza lavoro e senza stipendi. L'argomento degli stipendi è vitale per mantenere anche un sistema sociale dei lavoratori che ricordiamo a luglio e agosto sono sospesi. L'importante è anche la ripresa dell'attività lavorativa, che riteniamo che sia un'azienda che ha opportunità e soprattutto che finanziariamente può anche onorare gli stipendi di luglio e agosto. Gli stipendi vengono prima delle parcelle, questo sì.